Campo Marzo, destinazione futuro. Il più grande parco di Vicenza verrà totalmente rivoluzionato con un progetto da 3 milioni e 100 mila euro, 1 milione e 4 per la parte ovest, 1 milione e 7 per la zona est. A dare benzina alle casse pubbliche i fondi del PNRR che verranno investiti con l'obiettivo di ridurre a Campo Marzo gli angoli di degrado e aumentare invece la presenza dei cittadini grazie a nuove funzioni, nuovi vialetti, nuovi arredi urbani. Le caratteristiche principali sono quelle di rifare completamente i vialetti che adesso sono instabilizzato morbido con tappeti drenanti stabili, nuovo arredo urbano quindi spariranno le panchine grandi ma verranno sostituite con panchine più piccole con braccioli e sedute singole quindi antibivacco. Le aree che sul prato spesso e volentieri vengono utilizzate per bivacare verranno sostituite con prati fioriti quindi impedendone l'utilizzo scorretto. Un grosso intervento verrà fatto sulla seriola, una resezione completa e un nuovo intervento vivaistico quindi con piante acquatiche che ridaranno vita a quel bellissimo angolo e quel camminamento. Non solo, nuova illuminazione e più telecamere di videosorveglianza e poi rispondendo a una richiesta dei cittadini e dei commercianti portata avanti da Rete Veneta la realizzazione dell'aiuola con il logo fiorito di Vicenza. Su una richiesta pressante di Rete Veneta andremo a ripristinare quello che è il logo della città all'ingresso di Viale Roma di fronte alla stazione quindi con i fiori ripristineremo il vecchio simbolo della città sul prato. Benissimo e noi di Rete Veneta aspettiamo di vedere con le nostre telecamere questa rivoluzione. Nel frattempo la questione non finisce qui ma continua.